A Cisterna di Coseano la prima partita che apre i campionati dilettanti in Friuli Venezia Giulia. Debutto assoluto per l'Azzurra con Mr. Bortolussi di nuovo in campo dopo una stagione ai box. Un ritorno invece per il Rive Fraibano come per Max Rossi su quella panchina. Al nono del primo tempo la rete del provvisorio vantaggio dei padroni di casa, Assis di Burba e colpo di testa di Zucchiatti. L'ex Brian Lignano all'inizio stagione era stato proprio accostato alla squadra di Premariacco, sembrava fatta anche se poi ci sono state anche le trattative con Tolmezzo e Concordia. Alla fine scelto il Rive Fraibano e Zucchiatti già al quarto gol consecutivo e quindi il primo marcatore assoluto. Dopo una punizione di cabina i padroni di casa si spengono e l'Azzurra rimonta. Vince con merito crescendo durante la gara. Nonostante il caldo tiene sempre bene il campo con il giusto ritmo e crea di più. Ci prova Puddu poi Zanin si supera su Brick. Sponda di osso e conclusione angolata bene ma il portiere classe 2006 mostra le sue capacità. Appena segnalato il minuto di recupero l'Azzurra pareggia. De Blasi chiude alla perfezione il triangolo con Piccolotto che manda all'angolino. Stavolta Zanin non ci arriva e Piccolotto esulta per un gol importante che arriva al momento giusto. All'intervallo l'impianto di irrigazione rinfresca un po' tutti. Esce fresca, sempre l'Azzurra, non il Rive Fraibano, praticamente non pervenuto nella ripresa. Prima giocata pericolosa di Nardella, conclusione della distanza fermata dal palo. Poi Piccolotto perde il tempo in area e invece di concludere spreca con un dribbling di troppo. Puddu ci prova dal vertice e il preludio al gol che arriva sempre con la stessa giocata rientrando dal vertice. Stavolta diventa un assist per osso. Il centrocampista, altro punto di riferimento della squadra, indirizza così il pallone all'angolino per un gol storico. L'Azzurra vince al debutto in eccellenza. Esulta Bortolussi, terza vittoria consecutiva tra Coppa e Campionato.